Mentre i consumatori possono gioire per l'abolizione della temuta tassa di soggiorno per i turisti, a Ostia restano altri problemi, per quanto riguarda in particolare la poca cura dei cosiddetti biglietti da visita del litorale romano. Questa che vedete nelle immagini è la grande fontana situata al centro della rotonda di Ostia, sul piazzale Cristoforo Colombo, dalla quale i cittadini turisti possono godere della vista del mare e fermarsi sulle panchine per ammirare il panorama, magari scattare qualche foto. Ma nella fontana, al posto di acqua pulita e magari qualche pesce rosso, da mesi regna il degrado e la sporcizia. L'acqua presente è quella delle piogge di fine inverno, che nel frattempo ha stagnato creando muschio e melma. A peggiorare le condizioni della mancata manutenzione, l'inciviltà di chi specialmente la notte getta bottiglie di alcolici o di altri tipi nella storica fontana, che oggi appare più come una pattumiera. I cittadini avrebbero segnalato più volte il problema alle istituzioni locali, le quali avrebbero promesso interventi prima dell'arrivo del caldo vero. Ma oggi è 21 giugno, solstizio d'estate, e la fontana purtroppo è ancora coperta dal degrado.